Buonasera, sono sempre io, Andrea, Andy, Andrew, come volete chiamarmi Questo è il 29esimo video, è l'illuminazione un po' esagerata, non so come mai Allora, questo video è un po' diverso dal solito, però si collega a uno dei video che ho già fatto qualche mese fa Questo è un video dove, sostanzialmente, io voglio ringraziare il mio papà Voglio fare un video ringraziamento al mio papà perché, praticamente, per tutto quello che ha fatto per me Tutto quello che ha fatto per mia mamma, per i miei fratelli, eccetera, eccetera Mio papà è... mio papà è praticamente... è come me Mio papà è una persona molto timida, silenziosa e... è così Mio papà è così, è proprio introverso di natura, però... è veramente una persona... è una persona magnifica È una persona che è molto paziente, soprattutto per tanti fattori, per tante cose E io senza mio papà non vivrei nemmeno, non ci sarei nemmeno perché i miei genitori erano... quando erano tutti e due insieme Erano la mia colonna portante proprio, erano tutto quello che avevo Poi mamma se n'è andata, quindi non... se n'è andata una colonna importante Ora c'è... è rimasto mio papà Quindi adesso c'è mio papà a... a cui devo dare retta, di cui devo prendermi cura e cose del genere E... no, non sto piangendo, ma oggi mi... oggi mi bruciano gli occhi in una maniera... non so come mai, però vabbè E... vorrei fare veramente un grandissimo ringraziamento a mio papà perché... per tutto quello che ha fatto Perché... io... allora partiamo dal presupposto che io sono... sono uno di quei pochi figli che... Meno male ringraziano i genitori per quello che ha fatto per me, per... per la pazienza e cose del genere L'avevo già... l'avevo già ringraziato e... l'ultimidino mi fa mi sorridere, mi fa grazie e cose del genere Con mio papà ho un rapporto veramente bello Non è che usciamo insieme o cose del genere, ma... andiamo veramente, ma veramente tanto d'accordo Anche perché io gli somiglio un sacco, anche fisicamente Ho... infatti ho preso gli occhi da lui Siamo tre fratelli, sono l'unico che ho preso gli occhi... l'unico che ha preso gli occhi verdi da mio papà E... Menti, mio papà è veramente una persona straordinaria E... non... non è una persona che merita... tutto il dolore che ha dovuto subire La perdita della moglie con cui stava da... da 25 anni praticamente E... finanziariamente... mancano sempre soldi... costa tutto troppo e cose del genere E io c'è... tento comunque di... di stare sempre da lui... di... Vado sempre lì, gli chiedo se hai bisogno di qualcosa, gli do... Gli do... un bacio sulla guancia Perché sono... sono così di natura, sono veramente, ma tanto affettuoso Sono sempre... sempre in cerca di coccole e a farle coccole Quindi... sono sempre... Sono sempre pronto ad andare dal mio papà se hai bisogno e... Da quando... da quando è morta mia mamma, mio papà sembra... Mio papà è molto... è diventato molto più... molto più chiuso di quello che era prima da quando è morta mia mamma Per... non... allora... cominciamo col dire che non è uno che stava nelle proprie emozioni Quando se n'è andata mia mamma... ha trattenuto le lacrime Infatti non ha versato una lacrime perché lui... non ho visto mai piangere in 23 anni di vita Mai... mai visto piangere mio papà Mai visto urlare... alzare la voce sì ma mai urlare Ehm... perché lui è così non... Lui è molto paziente... lui una volta lo puoi fare due volte La terza... la terza... o ti sbatta a calcio in culo o... O ti dici... sei grande abbastanza per capire dove hai sbagliato Ehm... Davvero è... io senza... senza di lui non... non ci sa... non... Ma credo mi sparerei... non... Non lo so... mio papà è... è il mio papà... cioè... Poi è l'unico genitore che mi è rimasto... quindi tutto il mio amore... Lo... lo devo riversare su di lui perché è l'unico che è rimasto... Poi comunque in famiglia non è che abbiamo un rapporto così aperto... Siamo sempre... a farci i cazzi nostri... cose del genere... Non sono... non siamo cresciuti da una famiglia molto aperta a quanto pare... Ehm... Niente da quando sono andata mamma è veramente... si è spento veramente tanto... Si è spento e... Ma non spento nel senso che... sta sempre a letto... sta sempre a casa... Non fa niente... no... Fa le stesse cose che faceva prima ma... Io lo leggo nei suoi occhi il dolore... Anche perché sono molto empatico... anche se lui non lo dice... Io... Capisco che c'è qualcosa che... Lo turba un pochino e... Quello che ha turbato di più sicuramente è solo io... La morte di mia mamma sono... E il processo di dolore per me è stata una cosa inversa... cioè... Quando se n'è andata non... non avrò stato una lacrima... Perché ero in uno stato veramente di... Non so come dirlo ma... Non sono una persona che ama vedere le persone piangere... Di conseguenza non piango in pubblico... Non riesco a piangere in pubblico... Sarà perché ho veramente passato un sacco di scossoni nella vita... Ma io non riesco a piangere in pubblico... Non ci riesco... E se vedo piangere qualcuno in pubblico... Non... 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 Non so cosa dire... Non so cosa fare... Nonostante magari io abbia... Io capisca magari la situazione... E... Lo scossone più grosso lo so butto io comunque... Con la morte di mia mamma... Veramente tanto... Quindi su Facebook almeno tre volte al mese... Scrivo uno status su mia mamma... Perché veramente mi manca... Ma da morire... Ma tanto tanto... Si sente che non c'è lei... E se ci fosse lei... Ci sarebbero molti più... Molti più culi tirati diciamo... Perché qui da quando se n'è andata lei... Sembra che governa il caos... E quindi... Ognuno fa quello che vuole... Eccetera eccetera... Ma... Questa è un'altra storia... Cioè... Papà è... Mio papà è veramente... La persona più buona che esista... E la persona più buona che c'è... Cioè quando ero piccolo mi portava... Lui faceva il camionista quando ero piccolo... Partiva sempre... Tornava... Io ero piccolo quindi non me ne sono... Non me ne accorgo tanto ma... Viaggiava tanto... A volte mi portava gli orologini... Quelli con dentro le cicche... Caramelle... E io gli dicevo... Papà portamene sempre uno quando vai in viaggio... Perché comunque... Non è che stavo lì a guardare l'ora... Mi mangiavo le caramelle giustamente... Poi mio papà era... Poteva andare alle olimpiadi... Perché lui era un maratoneta... Mi sembra una cosa del genere... Faceva quelle cose... L'olimpiache... Salto... Corsa... Testimone... Cosa del genere... E non è andato avanti con... Con queste cose prive dalla famiglia... Ormai si era fatto una famiglia... Quindi non è andato avanti... Ed è una cosa... Se fosse andato avanti forse non ci sarei io... Ci sarebbe un altro figlio... Però... Devo ammettermi di piacere molto questa cosa... Avrei voluto che... Avesse continuato a fare... A seguire il suo sogno... E... Vorrei veramente... Vorrei veramente esprimere... Una grandissima opinione... Forse dovrei dirle a lui queste cose... Ma le sa già... Perché comunque gliele ripeto sempre... Gli dico sempre se è un bravo papà... Sei... 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 Sei una bravissima persona... Sei buona... Forse anche troppo... E... Niente... Gli dico sempre che io io bene... Quasi tutti i giorni... Ma... Ma lo faccio per chissà quale motivo... Perché sono io affettuoso... Perché... Perché nella merda di mondo che c'è... Preferirei dargli io un pochino d'affetto... Visto che nessuno... A parte l'amorosa... Gli lo dà... E sono contento anche che sia trovato un'amorosa... Perché comunque almeno... Lo vedo contento... Lo vedo... Lo vedo sorridente... Lo vedo... Lo vedo buono insomma... E... Vorrei anche dirgli un... Vorrei fare anche delle scuse... Perché non... Non sono sicuramente il figlio che lui vorrebbe... Non... Perché non ho lavoro... Non... Non ho continuato la scuola... Mi sono ritirato al secondo superiore... Forse lui le motivazioni non le sa... Perché lui pensa che io non avevo voglia di studiare... Invece non è così... E... I motivi sono più profondi... E... Perché non lavoro... Non ho... Non vado a scuola... Non... Non ho sport... Avrei voluto... Avrei voluto fare tante cose... Palla a volo... Avrei voluto suonare il pianoforte... Ma non ho potuto... Perché comunque... Non... Non sono nato in una famiglia... Dove... C'era il... L'incoraggiamento... Nella mia famiglia si usava sempre... Urlare... Ma... Ma che lo fai a fare? Cosa lo fai a fare? Peridità di tempo? Peridità di soldi? Bla bla bla... Questo è un errore che non farò sicuramente con i miei figli... Qualsiasi cosa vogliono fare... Li incoraggierò... Perché è questo che bisogna fare con i figli... Però a part... Cioè... Lui è... Non ha... Non ha fatto sempre mai mancare niente... Mai... Mi ha aiutato a prendere il telefono... Perché la mia unica entrata monetaria è lui... Visto che non lavoro e nessun altro mi dà... Mi dà mai denaro... Quando poteva mi dava qualcosa... Io raccoglievo 10, 20, 10, 5 euro... E così... In tot tempo sono riuscito a comprare il telefono... Con cui sto registrando... Mi dispiace che abbia perso l'amore della sua vita... Veramente non deve essere stato facile... Quando mia mamma era malatta... Lui era praticamente tutti i giorni fuori... Tra medicine... Prendere la sedia a rutelle... Andarle a prendere quello che voleva... Perché magari... Lei durante la malattia aveva qualche... Che so... Che voleva un dolcino... Voleva... Voleva qualcosa... Lui andava a prenderlo... Prendeva la macchina... Andava al centro commerciale... E io lo prendeva... Scusate la voce... Ma non so che cosa ho... Mi sa che ho preso un po' di vento... E niente... Mi dispiace che abbia dovuto... Passare davvero un dolore... Tanto grande... Perché... Non deve essere... Non deve essere facile veramente... Non è mai facile per nessuno... Però... Per chi le vive in prima persona... Una moglie... Un marito... Un figlio... Deve essere... È pesante... È un impatto veramente pesante... La morte di qualcuno... Soprattutto se poi... Quando se ne va questo qualcuno... Ci sono altri problemi... Da risolvere... È veramente tutto più difficile... Quando sono andata mia mamma... Abbiamo dovuto cercare casa subito... Subito... Perché mio papà voleva andarsene... Da quella vecchia... Non è stato facile cercare casa... Perché... Questi non è che sono infiniti... C'era un piccolo budget... Ma piccolissimo... Piccolo budget... Poi abbiamo trovato questa... Dove siamo adesso... Per puro culo... Mio papà ha cercato un... Qua nei dintorni del paese... Nel paesino dove viviamo... Non ha trovato niente... Abbiamo trovato questa qua... Che è praticamente... A 50 passi da quella mia vecchia... C'è tutto sto bordello... C'era la... Questa qua... Dove stiamo adesso... A 40-50 passi da quella vecchia... E... Ha avuto una pazienza veramente immensa... Un cuore... Una bontà... Ora... E... Quando fa la spesa... Sono cose piccolezze... Ma quando fa la spesa... Mi chiede se voglio qualcosa... E... Boh... Cioè... Nessuno mi chiede se voglio qualcosa... Capito? Mai nessuno... Quando va in giro... Mi chiede se voglio qualcosa... Mio papà puntualmente... Quando va a fare la spesa... Mi chiede... Ti serve qualcosa? Io gli chiedo... Eh... Manca l'odorante per la casa... L'odorante per la casa... L'odorante mio personale... E me lo prende... Eh... Mi prende le Kinder Fettalatte... Perché sa che le adoro... E in due giorni le finisco tutte... È una persona d'oro... È un papà d'oro... Non tutti lo capiscono perché... Mio fratello... Il primo... Se ne sbatte proprio... Se ne sbatte... Il secondo... Appena ha trovato casa... Se ne è andato... Se ne ha sbattuto i coglioni di tutti... Tra i due ribambiti... C'è il terzo che comunque deve... Fare un po' da spalla al genitore... Visto che... Lui... O vede me... O vede l'amorosa... Perché non ha tanti amici... Quindi... Quindi... Li vede su Skype... Ma non è uguale... Non è uguale vedere gli amici su Skype... Che nella realtà... Ti piace... Va bene vederli su Skype... Ma non è uguale... È una persona che veramente ammiro... La stimolo... L'apprezzo... E... Gli voglio un bene... Ma un bene... Che voi non potete immaginare... È un bene... È un amore proprio... Quello che provo per mio papà... È... È un amore immenso... E... Io prego che non gli succeda mai niente... Perché se succedesse qualcosa a lui... Io... Io non ci sarei più... L'impatto che ho avuto per mia madre... È stato veramente disastroso... E... Se anche a mio papà succedesse qualcosa... Sarebbe veramente... Una devastazione... Ma definitiva... Ne riuscirei a tirare... Cioè... Riuscirei a... A superarlo solo perché io sono... Emotivamente sono una persona forte... Non molto forte... Tutta la scossa che ho ricevuto in 23 anni... Serve a farti... A ripararti un po' dal dolore... Ma certi dolori sono... Certi traumi sono veramente troppo forti da sopportare... Un altro del genere... E non riuscirei... Quindi... Mio papà... Mio papà merita tutto l'amore del mondo... Il bene del mondo... Meriterebbe tutti i soldi del mondo... Meriterebbe... Ogni cosa... E quindi... Ti voglio bene papà... E... Un giorno ti farò vedere questo messaggio... Anche se... Anche se sono cose che ti dico tutti i giorni... Ma te lo farò vedere... E speriamo che... Sarai contento... Ti voglio un gran bene... Questo è l'amore che tuo figlio prova per te... Per sempre. Per merew mit fi... Per me lacro a questo fatto cosa danno tutto... Molino da tutta una ticina... Per...